La cura sta funzionando, il malato secca, seppur ancora convalescente, è netto miglioramento. Lo dice il termometro della ultima semestrale. Al 30 giugno di quest'anno l'azienda interamente pubblica che si occupa del sistema idrico integrato dei rifiuti ha infatti fatto registrare un più 114 mila euro che corrisponde a un più 116,6% di utile. Importanti segnali di ripresa dopo gli ultimi due anni di bilancio in rosso. Finalmente vediamo i risultati della cura che abbiamo messo in atto con estrema fatica in questi ultimi anni e in questi ultimi anni e mezzo in particolare. Per quanto riguarda i risultati della semestrale sono assolutamente favorevoli, sono assolutamente positivi. Questo dando conto anche di un cambiamento di politica di bilancio operando una profonda risciacquatura in arno di quelli che erano gli stilemi precedenti, gli stilemi lombardi che abbiamo sostanzialmente abbandonato. Il tutto tenendo conto di voci come l'aumento del costo dei carburanti, quello dell'energia elettrica e gli interessi dei mutui bancari. Siamo tornati a vedere l'utile, siamo tornati a vedere l'utile su base semestrale, un utile importante vista la situazione economica e finanziaria dalla quale veniamo e soprattutto il dato più incoraggiante è la differenza tra i costi produttivi e i ricavi che supera il milione, ripeto, su un orizzonte temporale di sei mesi. Abbiamo voluto fare una semestrale estremamente prudenziale, non sono stati iscritti molti ricavi che andremo a iscrivere al 31-12, diversamente dai costi che sono stati iscritti completamente. La ricetta, il controllo dei costi quasi maniacale, il rialinamento tariffario sia dell'idrico che dei rifiuti, la revisione dei processi interni ed esterni improntata alla massima efficacia ed efficienza. La società si è concentrata in questo periodo nella ristrutturazione, nella riorganizzazione dei conti e della parte contabile. Inizia adesso un lavoro che probabilmente sarà più complesso di cambiamento di marcia, vogliamo arrivare a trovare la sintonia con tutti i nostri collaboratori e poter finalmente operare in modo efficace e efficiente. Naturalmente non tutti i problemi sono risolti, la tariffa dell'idrico copre infatti il 7 milioni di euro, per gli investimenti ne servirebbero addirittura 20. Nel piano industriale di Seicam, per gli interventi sulla rete idrica, erano stati indicati complessivamente 15 milioni di euro in tre tranche da 5 milioni l'una, in arrivo dai fondi a QST. E poi c'è ancora aperta la questione dei rifiuti. I debiti dei comuni nei confronti dell'azienda ammontano a 3 milioni di euro. Riparte invece, dopo l'incendio novembre 2022, che ha distrutto il deposito di Cedrasco, la raccolta dei rifiuti ingombranti. All'impianto di Cedrasco siamo quasi pronti per iniziare le opere, per installare una nuova macchina che serve appunto per la lavorazione degli ingombranti. Quindi è un progetto PNRR per il quale abbiamo preso i fondi, sono circa 3 milioni e 800 mila euro, che durante il 2024 verranno messi a terra. E questo ci permetterà di ottimizzare ancora di più la raccolta degli ingombranti, con una selezione maggiore, e quindi con anche opportunità di vendita del materiale poi selezionato. All'impianto di Cedrasco